Turismo, commercio e istruzione. Su questi tre pilastri si fonda il progetto di legge presentato questa mattina all'Aquila, a Palazzo dell'Emiciclo, dai consiglieri regionali della Lega. Un incontro voluto da Sabrina Bocchino, prima firmataria della proposta normativa, che ha visto gli interventi del capogruppo Pietro Guaresimale, del coordinatore regionale del partito Luigi Deramo e del vicepresidente vicario del Consiglio Roberto Sant'Angelo. La Bocchino ha inoltre ringraziato il presidente Lorenzo Sospiri per aver contribuito alla scrittura del testo. Sentiamo le sue parole. Abbiamo semplicemente ascoltato quelle che erano le istanze dei nostri imprenditori, dei nostri commercianti, delle nostre partite IVE, che non sanno come e quando poter iniziare a lavorare. Verrà portata al primo Consiglio regionale utile, anche perché c'è l'urgenza di dare dei soldi a fondo perduto alle nostre aziende per poterle far ripartire. Il testo prevede finanziamenti per 19 milioni di euro da destinare ai settori economici più colpiti dalla crisi coronavirus. Il sostegno è previsto sotto forma di sonvenzione diretta a fondo perduto e aiuti sotto forma di indennizi. La sonvenzione riguarda la copertura delle spese di funzionamento delle attività economiche a decorrere dal 19 marzo e per il trimestre successivo. Le imprese dovranno dimostrare la propria grave carenza di liquidità, derivante dallo squilibrio tra le entrate e le uscite entro il limite massimo in valore assoluto di 2.000 euro. Nel secondo caso si incide sui mancati ricavi dichiarati dall'impresa, rilevati rispetto ai dati dell'anno 2019 e dovuti alla sospensione temporanea, sia totale che parziale dell'attività, entro il limite massimo di 10.000 euro. Chiudiamo con l'intervento del Vice Presidente del Consiglio regionale, Roberto Sant'Angelo. Una legge importante che in questo momento storico, proprio in questa fase, all'indomani delle dichiarazioni di Conte che prevedono una fase 2 molto lunga per il settore del turismo, della ristorazione, del commercio, dei bar, dei centri di bellezza, dei parrucchieri, dei barbieri, noi il 22 di aprile abbiamo depositato una proposta di legge che contribuisce sulle spese di funzionamento e quindi parliamo di affitti e di bollette e fino a 2.000 euro e 10.000 euro sulle spese di mancato reddito per andare incontro proprio a queste categorie. Le persone non riescono più a arrivare a fine mese, con le lungaggini burocratiche per accedere a 600 euro al mese le persone vogliono lavorare in sicurezza, vogliono guadagnare e in questo momento si dovrebbe fare i conti con il virus e ragionare con la convivenza con il virus perché le imprese rischiano di riconsegnare le partite IVA.